Ciao, ben ritrovati. Oggi primo giorno della settimana, quindi parte alta, faremo un esercizio per gli arti superiori, per le braccia e in particolare per i bicipiti. Abbiamo già visto un esercizio per i bicipiti ma in isometria, questo lo faremo invece in movimento. Hai potuto vedere Nina che scorreva dietro di noi, che mi sta facendo compagnia oggi mentre facciamo i video. Eccolo lì. Detto questo quindi un curl effettuato in piedi, nel video lo vedrai fatto con un manubrio, un kettlebell. Tu puoi tranquillamente usare una cassa d'acqua che comunque corrisponde al peso di 9 kg, eventualmente decidere di impugnare due sacchetti che contenenti un determinato numero di bottiglie comporteranno un determinato carico, quindi se metterai due, tre, quattro bottiglie avrai rispettivamente tre, quattro e mezzo o sei chili, quindi potrai modulare a tua preferenza. Ovviamente se hai dei manubri non avrai questo tipo di problema. Un accorgimento, esercizio fatto in piedi, magari tieni le braccia, scusami, le gambe leggermente piegate, questo per scaricare preventivamente la schiena. E attenzione nel fare il video, non buttare il busto indietro quando sei nel momento di massima contrazione, ovvero quando il braccio sta salendo si trova orizzontale. Questo serve per fare in modo che sia solo a carico del muscolo lavoro e non a carico della schiena che invece andando indietro e strappando ti aiuterebbe a sollevare il carico sul detto. Detto questo ci vediamo domani per l'esercizio di gambe. Ciao, io e Nina ti salutiamo. Ciao! Ciao!